Una vera e propria discarica a cielo aperto si è creata in località Trentova ad Agropoli. Diversi rifiuti sono stati abbandonati tra la vegetazione, coperte, asciugamani e lenzuola. Purtroppo non è la prima volta che si verificano episodi del genere. Più volte, infatti, a causa di incivili, si sono formate in diverse zone, un po' più distanti dal centro, delle discariche a cielo aperto, con presenza di immondizia nei rispettivi luoghi, ed ogni qualvolta ciò crea non poco sdegno nella comunità, poiché si tratta di un biglietto da visita per la città poco decoroso, non solo per i cittadini, ma in particolare anche per i turisti che vengono in visita nella zona. Un sistema di videosorveglianza potrebbe essere una soluzione ideale per evitare che chi si trova di passaggio e magari approfittando di un luogo più isolato e lontano dal centro possa abbandonare rifiuti e immondizia. Sarebbe stato più semplice lasciare tutto vicino all'apposito raccoglitore per gli indumenti e le stoffe. Invece no, meglio rischiare un verbale o di rompere l'auto, per portarla sulla strada interpoderale per il Vallone, poco dopo i campi da tennis di Trentova. È il commento di un cittadino agropolese che ha scattato delle foto alla microdiscarica. Non è solo in località Trentova che si verifica l'abbandono di rifiuti, dichiara un altro cittadino infuriato. Presso i campi da tennis all'uscita di Agropoli Sud, oltre a tanti stracci coperta e lenzuola, ci trovi anche frigoriferi, tv, tavolini e tanti pezzi di auto, sedili, cruscotti, ruote e tanto altro.